Grazie a tutti. Stiamo facendo riferimento in base alla legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in questi giorni. Dicevo se è un indirizzo politico che si dà al bilancio pluriannale 2013-2015 oppure è una vera e propria esecuzione di quella legge lì che autorizza al più presto la stabilizzazione dei dipendenti. Se i dipendenti erano quali erano i dipendenti è il numero da stabilizzare in base a questo indirizzo. Non è un indirizzo politico, è soltanto la stabilizzazione del numero dei dipendenti che sono una psicologa dei servizi sociali, un'altra realtà che sta nei servizi sociali e la persona ha detto stampa che comunque sta da anni già in carico al comune. Quindi è soltanto questo, è un processo per garantire qualche ora di lavoro a persone che potrebbero poi arrivare al 2016. Nel rispetto dei vincoli, assolutamente sì e soprattutto se nell'amministrazione comunale nel 2016 qualora ci fosse la possibilità di un eventuale pensionamento quindi far sì che le persone che oggi c'è in questo processo poter andare a dare la possibilità a tempo indeterminato, nelle ore consentite, dentro il tetto comunque consentito massimo di quello che è l'unità che si perde. No, sì, quello è per la parte però a tempo indeterminato. Ci sono altri interventi? Allora se non ci sono altri interventi mettiamo a votazione l'emendamento, favorevoli, contrari, astenuti. Allora passiamo a concludere il punto 6 sul bilancio, prego consigliere Rastelli. Sì, diciamo che oggi andiamo ad approvare il bilancio di previsione, considerando che è il 25 di novembre più che di previsione si dovrebbe parlare di consultivo, però chiaramente non dipende da noi amministrazione se ci troviamo oggi, cioè tutte le amministrazioni comunali si trovano ad approvare il bilancio di previsione. Considerate che ad oggi, fino a poco tempo fa, ancora non sapevamo se dovevamo pagare l'IMU sulla prima casa, ancora fino a dieci giorni fa si parlava di proroga del secondo acconto dell'IRPF e dell'IRES. Ho sentito che per l'anno prossimo forse si ritorna ai termini degli anni precedenti, cioè un bilancio di previsione è un bilancio che si fa per prevedere qual è la spesa dell'anno. Oggi al 25 di novembre diciamo che bene o male sono passati quasi 11 mesi, quindi possiamo quasi parlare di consultivo. Che dire, allora sostanzialmente i punti fondamentali sono questi, cioè c'è da dire innanzitutto che rispetto all'anno precedente abbiamo avuto un taglio di circa 180 mila euro di minori entrate, che chiaramente ha messo un po' in difficoltà l'amministrazione perché comunque sono stati 180 mila euro in meno sul bilancio. Si è cercato di garantire soprattutto i servizi sociali, i servizi culturali, la scuola. Considerate che per esempio per ciò che riguarda il danno della neve, che sono stati circa 53 mila euro, non abbiamo avuto alcun rimborso, quindi sono stati tutti i soldi che sono andati totalmente a carico del comune. Ci sono due progetti importanti, il progetto anti-usura con una previsione di 48 mila euro di entrate e il progetto Bene Comune Turismo, è un supporto web per le mappe turistiche per un finanziamento di circa 106 mila euro. Per quanto concerne invece la ventita del ramo Archesia, abbiamo preventivato circa 220 mila euro, come abbiamo visto in commissione bilancio. Questi 220 mila euro, che è una cifra di previsione, perché come sappiamo l'Archesia andrà praticamente in liquidazione, in base poi al bilancio finale di liquidazione verrà determinata la parte a carico del comune. Si prevedono degli interventi, soprattutto per gli stanziamenti per l'acquisto del pulmino, della sistemazione della strada di Colle Mortola e una strada di collocamento delle case popolari con San Sebastiano. Non voglio ricordare comunque che il comune attualmente non può fare, come già detto anche in tutti i precedenti bilanci, nuovi mutui. Attualmente i mutui per il comune al 31 dicembre 2013, c'è una previsione di circa 9 milioni 622 mila euro, sono stati pagati interessi passivi nel 2013, dico sono stati pagati perché ormai siamo a dicembre, cioè quello è, 510 mila, 583, 510 mila euro di interessi passivi. Vi posso leggere, abbiamo chiaramente il parere favorevole dei responsabili di servizio, questa è la relazione del revisore unico, vi leggo il parere, in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto conto del parere espresso da responsabili di servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, l'organo di revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente e del regolamento di contabilità, dei principi revisti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli antilocali e del principio contabile numero uno degli antilocali. Ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Ha rilevato la coerenza esterna e in particolare la possibilità con le provisioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli antilocali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ed esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allegati. Grazie consigliere Rastelli. Il fondo di solidarietà. Il fondo di solidarietà. Il fondo di solidarietà. comunale per il 2013 352.646 è la quota da trattenere per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2013 a senso dell'articolo 1,380 della legge 228.2012 In merito a questo punto ci sono interventi? Quindi non ci sono interventi. Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego consigliere Alferi. Io fondamentalmente sindaco ripeto quella che è stata la linea degli interventi degli anni precedenti che in alcuni seduti forse per un eccesso di tensione o di nervosismo da ambo le parti è stata anche in qualche maniera mal concepito quello che volevo dire Io penso che tutte le amministrazioni compresa la nostra governano in un momento in cui le risorse finanziarie sono al minimo termine in un momento in cui il paese Italia e non solo vive una crisi economica a mio avviso e secondo molti analisti con pochi precedenti per cui è difficile amministrare è difficile fare il sindaco è difficile fare l'assessore è difficile fare anche il consigliere di opposizione perché poi le esigenze dei cittadini le problematiche dei cittadini vengono anche raccolte da chi non è maggioranza soprattutto da chi non è maggioranza e se ne deve far carico nonostante non amministri un paese per cui l'opposizione riconosce il momento di difficoltà delle amministrazioni italiane e la difficoltà dell'operare a seguito di questa crisi economica però noi non possiamo votare a favore di questo bilancio che poi come diceva Alessio giustamente non è neanche un bilancio di previsione perché lo andiamo a provare nel mese di novembre è un vero e proprio bilancio consuntivo cioè andiamo a fare per la maggioranza della linea del bilancio l'analisi di quello che è stato questo bilancio qui non lo possiamo approvare perché non condividiamo alcuni punti di questo bilancio primo tra tutti e non ne hanno novità perché ne abbiamo discusso in alcune sedute precedenti la voce che riguarda la vendita d'Archesia noi non abbiamo condiviso no la vendita d'Archesia nel ramo di azienda d'Archesia c'è il pacchetto clienti la commercializzazione del gas e metano non abbiamo condiviso quella operazione e non possiamo nello stesso tempo approvare un bilancio che comprende tra le sue entrate anche la vendita di questo ramo di azienda non possiamo condividere un bilancio che comprende una convenzione riguardo l'impianto di CDR a Castellaccio l'impianto di CDR di Castellaccio la convenzione che noi sicuramente non avremmo rinnovato nel caso in cui avremmo vinto le elezioni perché non condividiamo la scelta politica dell'amministrazione precedente di istituire quell'impianto lì giù a Castellaccio ci abbiamo fatto una campagna elettorale e Sindaco penso anche tu è stato uno dei tuoi cavalli di battaglia come il nostro in campagna elettorale a differenza di qualcuno che oggi si riempie la bocca su i giornali e scrive pensieri su Facebook e si regge a paladino dell'ambiente invece era in lista con chi voleva fare il termocombustore appagliano oggi però critica chi ha l'opposizione invece in modo coerente negli anni è sempre stato contro questo tipo di sviluppo del territorio e magari è stato uno dei motivi per cui la sinistra a pagliano non è andata unita negli ultimi dieci anni no? la tematica ambientale invece qualcun altro è stato chi voleva fare certe cose e oggi dice che è contro e accusa che invece negli anni è stato contro che è a favore e poi Sindaco ho anche l'occasione magari se vuoi intervenire in merito a questo argomento qui visto che il bilancio non lo prevede e io mi aspettavo che fosse inserito perché abbiamo votato in consiglio comunale anche la vendita del pacchetto clienti energia elettrica di Amea e noi sappiamo che doveva essere definita la trattativa e chiusa perché votammo ripeto il punto dell'ordine al giorno in consiglio comunale e all'interno del bilancio dei previsioni 2013 non è prevista nessuna cifra in entrata rispetto rispetto alla vendita del pacchetto energia elettrica di Amea per cui chiedo anche se vuoi rispondere poi perché non siete nudi se ci sono ripensamenti in merito a quell'operazione lì oppure non è andata più in porto se ci sono dei problemi riguardo ripeto questa operazione a lei i mutui non si possono fare più è vero i mutui non si possono fare più però bisogna che i cittadini lo diciamo anche perché a scanzo di equivoci ho malinterpretazioni i mutui non si possono fare più perché ci sono delle leggi finanziarie precedenti che rispettando quello che è l'indirizzo europeo l'austerity e le ristrettezze per rispettare alcuni parametri di bilancio il rapporto dei interessi passivi sulle entrate accertate mentre negli anni passati aveva una percentuale più alta che andava da 12-13 adesso non ricordo con precisazione 14% nei primi anni del 2000 prima dell'insediamento dell'amministrazione mi sembra fino al 2008-2009 da quelle percentuali lì si è passati a un 6% del 2013 logicamente si ristringe la possibilità di fare nuovi mutui e nuovi debiti da parte dei comuni per l'anno prossimo è previsto nel 2014 un 8% si passa da un 6% all'8% rispetto a quella percentuale lì però ecco i mutui non si possono fare per quello penso che se le amministrazioni precedenti avessero sorpassato quelli che erano i limiti previsti dalla legge e avessero avuto un indebitamento anomalo rispetto a quello che è la legge la legge italiana prevede il commissariamento e l'arrivo del commissario prefettizio è come se questa amministrazione non rispettasse quelli che sono i parametri li rispetta stando a quello che è il discorso alle regole dettate dalle finanziarie e dalle leggi per cui non ci sta nessun commissariamento come non c'è stato in passato anzi in passato c'è stato perché l'abbiamo fatto arrivare il commissario e non per questioni di bilancio per cui Presidente noi per queste motivazioni qui votiamo contro vado all'ultimo punto così è normale che la percentuale di indebitamento non l'abbiamo decisa noi lo decide il governo centrale e noi ci siamo ritrovati in un momento dove il governo centrale ha detto che il nostro comune deve stare al 4% noi l'abbiamo trovato al 13,7% quindi è chiaro abbastanza chiaro che che ci siamo trovati di fronte a un baratro no quindi questo baratro ha dato l'impossibilità a fare tutto quello che si potesse pensare tutte le cose del mondo se poi adesso le maglie verranno riaperte ok ma se domani dovesse anche arrivare il solo 6% ancora siamo alti perché noi ci stiamo ancora al di sopra forse siamo al 7% di indebitamento comunque siamo alla soglia ancora alta non lo sappiamo non lo sappiamo se qualora ci fosse ben venga che vuol dire che qualcosa in più si può fare fermo restando che poi i costi comunque che ci sono le spese gli interessi che vengono pagati sono risorse che comunque si vanno a distogliere da quello che può essere la parte ordinaria di amministrazione e questo è il punto quindi dove siamo sostanzialmente d'accordo sostanzialmente d'accordo ma in realtà è così quindi sulla vendita d'archesi abbiamo delle vittude diverse ma delle vittude che partono praticamente da discorsi prettamente come dire forse di bilancio e aritmetici e quant'altro perché è ovvio che se io arrivo al momento che mi trovo un'archesi con un capitale di poverina di 133.000 euro e debbo pagare una liquidazione di una società partecipata a 244.000 euro beh i soldi non ce l'ho quindi non li ho e automaticamente qualcosa devo vedere qualcosa devo fare perché è quello il problema fondamentale che ha permesso poi al dover arrivare a una decisione drammatica oltre quello poi il fatto che comunque i posti di lavoro li abbiamo garantiti impianto CDR ma io sulla convenzione sì potrei anche essere d'accordo in assoluto con te e lo sono perché so come sei come sempre agito e quello che pensi però c'è qualcosa che stride perché ovviamente quando una una candidata al PD regionale del PD provinciale che dice poi davanti al ministro Orlando che il ciro rifiuti di Frosinone è completo però questi questi centri che lavorano al 50% bisogna implementarli e qualcosa non funziona e ci sono registrazioni audio registrazioni audio quindi quindi questa cosa diventa un attimino un po' controsenso diventa un controsenso perché se bisogna implementarli significa che se lavorano al 50% quello di Castellaccio portiamola al 100% eh? no no c'è c'è scritto c'è bene evidente tranquillamente ci sono c'è la penna quindi questa cosa questa cosa è molto chiara allora sul discorso quindi questo discorso qua sul fatto dell'impianto esiste l'abbiamo trovato ha le autorizzazioni fino al 2018 comunque in ogni caso eh non possiamo far nulla perché le autorizzazioni le hanno adesso è andato a fuoco eh sta fermo speriamo che rimanga fermo se vogliamo metterci a dircela tutta però di fatto non l'abbiamo costruito noi quindi se c'è comunque eh se c'è comunque una una attività e hanno il diritto acquisito beh l'unica cosa che il comune può fare è quella di pretendere un agio eh non possiamo far diversamente e lo stiamo e stiamo cercando di farlo anche perché anche perché anche perché tra l'altro il problema fondamentale è che queste queste somme sono purtroppo molto importanti per l'equilibrio precario di un di un'amministrazione che di risorse non ne ha quindi alla fine dobbiamo pur chiudere un bilancio quindi prendiamo quelle somme e chiudiamo un bilancio sull'ultimo punto sulla vendita dei clienti a mea ma sulla vendita dei clienti a mea in parte che ancora non è stata definita ma in ogni caso l'incasso va alla mea non è che va dall'altra parte mettere a Archesia se c'è seduto il ramo di azienda e quindi ovviamente quando il liquidatore chiuderà il ciclo quello che sarà la risultante verrà comunque in al comune perché è stata ceduta il ramo di azienda e tra l'altro come detto prima Rastelli è stata fatta una previsione per una cifra molto indicativa che non è reale perché è chiaro che la vendita di Archesia è stata fatta in un momento dove era il netto finanziario utile il migliore quindi è 550 mila euro adesso da lì quello che sarà il il liquidatore quando avrà fatto tutte le partite darà al comune la parte spettante ci siamo immediatamente spettante la cifra quella è quella che noi stiamo spendendo ora previsionalmente ma potrebbe essere sicuramente maggiore no non ho capito la parte del liquidatore la parte finale della fase di vendita si allora se si è stata chiusa nella posizione finanziaria netta a 550 ora cosa succede ci sono debiti e crediti vanno a chiudere sicuramente si aggirerà di qualcosa simile a quella somma lì poi le varie quote percentuali che abbiamo il comune è al 67% quello che sarà la parte finale il 67% è del comune noi abbiamo previsto abbiamo messo in bilancio i 220 mila euro ma a mio avviso è in difetto perché è inutile andare a fare un eccesso e poi magari le somme non ci sono con quelle somme abbiamo previsto quei tre lavori perché vanno tra l'altro nel capitolo secondo quindi delle opere pubbliche e abbiamo provveduto a fare qualcosa che in effetti negli anni non è mai stata fatta con le mortola certo non facciamo una cosa mega galattica ma permettiamo comunque di poter spendere con 100 mila euro fare una strada accessibile a una diciamo a una frazione che praticamente non ha mai avuto una grossa accessibilità andiamo di nuovo sul sociale abbiamo previsto un ennesimo pulmino perché perché abbiamo un parco macchine vecchio abbiamo un parco macchine vecchio soprattutto non adeguato anche nei posti quindi dobbiamo prevedere un pulmino di 40 posti che costerebbe dovrebbe costare nei massimi intorno ai 50 mila euro e quindi anche questo è una cosa che riguarda sempre l'aspetto spettamente della scuola abbiamo previsto un qualcosa che non è mai esistito il famoso Bronx chiuso da lì con la strada soltanto per arrivarci quando adesso abbiamo pensato di fare quella scala che permette almeno alle persone pedonali di poter scendere da quel posto e scendere giù sotto la strada di San Sebastiano se non va errato quindi dei soldi si stanno finalizzati a cose che sono soprattutto di primaria importanza quindi la vendita d'archesia è andata in quel modo perché non poteva essere altrimenti quindi le opinioni sono discordanti perché abbiamo delle evitute discordanti tranquillamente magari la mia va sotto una cosa molto asettica la matematica e quella matematica non si discosta i numeri sono sempre numeri molto selettivi non potevamo fare diversamente però una cosa è certa che quello che può essere ricavato di archesia lo stiamo destinando a opere che altrimenti non ci sono mai state e mai pensate negli anni precedenti grazie grazie sindaco allora preso atto della dichiarazione di voto contrario passiamo a votare il punto favorevoli i contrari li abbiamo detti astenuti non ce ne sono immediata esecutività favorevoli contrari estemporaneo passiamo al prossimo punto monumento naturale selva e molate piscoli osservazione di regolamento di cui alla legge regionale 27 del 97 per quanto il lotto non ce l'ho per quanto riguarda il regolamento al monumento naturale si sto facendo io è stato pubblicato nel sito della regione Lazio circa un mese fa il regolamento questa amministrazione ha provveduto a fare delle osservazioni che vi elenco in modo puntuale dunque modifiche sostanziali l'articolo 2 le dobbiamo leggere avete avete voi dico sulle osservazioni prodotte avete delle osservazioni da fare visto che non le andiamo a leggere tutte va bene dunque diciamo che sono intervenuti sugli articoli 2 3 4 5 12 13 14 16 e 18 ma riguardano diciamo delle osservazioni sulla gestione in riferimento del decreto istitutivo poi c'è stato all'articolo all'articolo 3 coban 1 eliminare l'estensione dell'area per evitare incongruenze in caso di modifiche di perimetro del monumento naturale all'articolo 4 specificare che i vincoli segnalati nel regolamento hanno valore puramente indicativo all'articolo 5 per chiarezza sarebbe il caso di aggiungere un comma sui nulla osta qualunque attività ed intervento all'interno del perimetro del monumento naturale sono subordinati a rilascio di specifiche nulla osta da parte dell'enti di gestione e degli enti preposti alla tutela a esenza dell'articolo del decreto legislativo 42 2004 l'articolo 12 aggiungere la possibilità di realizzare recensioni se necessarie l'articolo 13 comma 6 eliminare la parola patronali ed aggiungere che le aree in cui le attività sono consentite saranno specificate nel nulla osta rilasciato dall'ente di gestione l'articolo 14 al comma 2 aggiungere che le aree di cui sono consentite le attività saranno le attività saranno specificate nel nulla osta rilasciato dall'ente di gestione l'articolo 18 comma 2 specificare nel ruolo del comune di Pagliano che gli aspetti di cooperazione e coordinamento istituzionale e dare indicazione sulle modalità di gestione dei danni da fauna questo in grandi linee poi avete avuto modo diciamo di leggerle nei documenti ci sono interventi in merito a questo punto mettiamo ci sono dichiarazioni di voto mettiamo a votazione il punto favorevoli contrari astenuti immediata esecutività favorevoli contrari astenuti passiamo all'ultimo punto punto 9 regolamento cumulare sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi esami ed approvazione l'assessore nevoso no non l'avevi mi dai no lo faccio io relaziono anche se comunque l'avete avuto modo diciamo di accedere agli atti che la legge 241 del 90 e successiva modificazione di integrazioni detta un complesso di norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nell'intento di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa l'articolo 29 stabilisce che gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze regolano le materie disciplinate nella suddetta legge nel rispetto del sistema costituzionale e della garanzia del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa così come definita dai principi stabiliti nella medesima legge numero 241 del 90 questo è quanto riguarda il discorso del del regolamento pertanto se ci sono interventi in merito a questo punto prego altri approfondimenti allora dichiarazione di voto allora passiamo a votare il punto favorevoli unanimità immediata esecutività favorevoli unanimità espedato quest'ultimo punto dichiaro chiuso il consiglio e auguro una buona serata a tutti grazie 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 grazie